Quanta gente di prima mattina andava, perché in fondo è quasi mezzogiorno. Certo, oddio, la vita mia è stata sempre un po' curiosa, diversa da quella degli altri. Ma è arrivato il momento di cambiarsi. A una certa età che ti ritrovi, la solitudine ti ritrovi, solo quella. Buonasera, Contessa. A un'ora, eh? Stasera offre la vita. Allora andiamo? A casa, eh? Molto bene, agli ordini. Ho deciso di farmi l'automobile. Eh? Come mette a rito manco per niente, è un'idea proprio giusta che ha avuto Anna e c'è proprio ragione, mamma mia. Donna Smolante! Corna tante, commentatore! Corna tante, commentatore! Corna tante, commentatore! Corna tante, commentatore! Corna tante, con terms! Corna tante, con cara tante,